Ciao a tutti ragazzi, sono Luke ed eccoci qui in questo nuovo episodio di Evoland per la nostra rubrica game random. Ok, il volume del gioco è basso e possiamo iniziare. Ok, eravamo arrivati al punto che non mi ricordo, mettiamo un po' i tasti, non me li ricordo sinceramente, ma si, me li ricorderò. Oh my god, ah si è vero, dobbiamo salvare la ragazzina come vi ho fatto nel video precedente. Ok, abbiamo salvato la ragazzina, oh my god, la chiamiamo, la chiamiamo, la chiamiamo Imor. Imor, no, però è femmina, quindi la chiamiamo Imor. Imor è Imor, ma no, no, ti ho detto di chiamarla, ti ho detto di chiamarla Imor. Imor. Imor... Imor. Imor. Oh, è un casino scrivere qua. Imor. Oh Don Imar has joined the game Ok Entriamo addirittura Nella grotta Crystal caves La cava del cristallo Allora Dobbiamo trovare il cristallo Ehm Sa far qualcosa Della tua percezione nel mondo E con esso puoi Combattere Il cattivo Che ha Cazzato il mio villaggio Ehm ma la via Non la so No hanno qualcosa Il nostro nome Ovviamente siamo Gli impavidi Luke L'impavido Luke Luke My god Luke Noi siamo Luke Dobbiamo salvare la nostra Imar Che il mio monster Non c'è due palle Magia Salveci tutti Mia cara Imar 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 Però No No Non si poteva abbassare il volume da qua No Chieder troppo No Non si può Ok No Ma sapete che non mi ricordo Oh mattono Ok Ok Ah così proprio E basta No 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 Curaci Imar Imar Boh puttanella Ehm Che due palle Cobra zero Miss 1 M Perché lui non gli fa danno? Ah adesso C'è un miss Cos'è miss? Io conosco solo Sir Battute molto porno ma perché c'è I mar qua I marì 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 No Due palle vai a caccare Oh Oh Eeeh ci mancava cicciono qua Abbiamo trovato una pozione Gliz 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 Che sarebbero le monete del gioco Scalori Scalori I diglett Classici diglett Se dà in foto Oh bravo Con la roccia non mi fa passare Eeeh basta tu Eh bravo Molto ti voglio bene anch'io Molto guarda Curaci tu Imaro Ok Punti esperienze Tutto si fa già più interessante Con i punti esperienze Tu curaci Brava Tu muori il diglett Tu muori il diglett Gioco salvato Gioco salvato E se poi Ti c'è il diglett Bicca picca picca Che Eh Bicca picca Mmm Mmm 3 6 Ciò Sos Mis Mis Muore Pissà la mosca Card card aspettate un attimo ragazzi ok ok questi incontri casuali ah quello l'ha attivato questo oh un cristallo ok oh my god lefka's ghost il guardiano di lefka eh se il guardiano il fantasma di lefka si 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 dobbiamo ammazzarla però non so cosa curaci tu ok 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 ci tiriamo su la dita ok quanto cavolo è forte questo qua ok 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 ma 3d mood my god che figo è bella la ragazza il potere del cristallo incredibile ora posto se non il tuo eroe fammi un lavoretto lavoretti lavoretti dimor cosa fa? mio dio si è impallato eh no ok eh no oh mio dio che bug del cavolo che palle beh comunque ci vediamo al prossimo video ciao ciao e al prossimo video voglio like voglio like cheeeek